E' un'altra cosa? Cosa? E' un youtuber, questo qua ti ho chiesto Andrea, che ti posso regalare Ah, non lo conosco Ehm, poi c'ho... Nocturno al 130 Tu? Allora, io... Ok Poi... Nocturno al 130, non subito, però... Quasi Poi... Ehm... Eh, per lo scafosse cosa vuoi? Un nocturno? Ehm, si, vabbè Ok Puoi mandare lo screen, no? Però devo fare una cosa veloce che devo andare io Ah, ok, ok No, la tengo io, tranquillo Poi sto qui, quindi non posso riprendere l'arco Aspetta, aspetta, non droppare, non droppare, non droppare, non droppare Sì, sì Vai Aspetta, se io c'ho... Ehm, guarda Però c'ha 240,4 di... Sì, ma è al 130 Sì Sì Ci hai provato? Ci hai provato? Noi Perché? Ci sono riuscito, è diverso Perché? Eh, perché truffi? Non è vero, perché te l'ho detto? Eh, sei stato segnalato su Instagram Verù, perché truffi? E' Gigi Ho truffato in truffatore Ho truffato in truffatore Eh, bruh, eh, mi segui questo non significa nulla Volevi la macchina da scrivere E' cinque di Malachita Ok, cinque di Malachita che schiena vabbè tanto poi siamo noi che c'è da truffare ma vabbè affanculo vai ma no non volevi truffarmi non fa non è una volta apposta non ha fatto che faccia allora dammi permessi visto che non sei un truffatore non mi permessi mamma che truffatore ha provato pure felace sapevo che voleva truffarmi beh scambiamo veramente ora ce n'è la faccia da un truffatore che bimbo merta non si truffa no quanto i permessi però adesso troppo prima di perché sì ma non mi dai permessi ho fatto tutto qua o quanto mi dai permessi non ho neanche visto che non ho troppato l'arma ma ti ruffo ma 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 prima di essere fatto di allarma al 100 si ma è che non è meglio non è un bello tanto ha un canale di 10 mili scritti tanto vedremo vedremo che finisce il bene di manare audio di gioco audio di gioco la massa fincela vuela vuoi se non la vuoi non che perca o che voleva fare il suo ragazzo anche che voleva fare voleva sto bimbo merda vabbè più o meno che perché hai detto che a tutti i blu e traccia che c'è sopra quello fai tutti pure a brù allora questi giochetti con me non li fai che prende una modifica in mano e per piacere troppo all'arma a terra estetica troppo bravo la prossima volta non di mettere a truffare e che cazzo hai fatto non truffare bressi non devi truffare la vita è così tu vuoi truffare e vieni truffato ti senti forte a truffare un livello 5 allora bello volevi volevi truffarmi eh oh volevo bello ma ci sei riuscito no mi dispiace è bello non ci sei riuscito cavolo 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 bello cavolo non ci pensavo diventa sarei più fortunato chiudi chiudi o un'ottuna 130 no e ti ho droppato più di questo a me si a me si a me si ma dice voglio tre armi tre armi tra faccio 4.8 dammi tre armi al 100 no tre armi leggendari come vuoi passi che non sono rotto no allora che si eh poi che si eh è un'altra eh bella bru bella 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 non truffarmi più bello non provarci non provarci sei stato segnalato è è Gigi ha ha è è